E allora, e anche nei parti prematuri però vedo, perché sono aumentati tanto nelle donne che hanno contratto il Covid. Ma dottore sappiamo perché? Sì, lo sappiamo perché in realtà la malattia da Covid-19 in gravidanza aumenta tutte le patologie gravidiche che conducono poi al parto prematuro. Tra l'altro in molti casi è necessario per la salute della mamma interrompere prima la gravidanza e quindi chiaramente il bambino nasce prima. Ma con il vaccino anti-Covid questo potrebbe essere risolto? Sicuramente, infatti tutte le società scientifiche di area ostetrico-ginecologica e chiaramente anche la società italiana di neonatologia che io mi onoro di rappresentare, siamo tutti a favore della vaccinazione in gravidanza. Vaccinarsi in gravidanza significa proteggere le donne perché le donne in gravidanza hanno una forma di malattia da Covid-19 più forte rispetto alle parietà. Non in gravidanza è proteggere il bambino perché durante la gravidanza passano gli anticorpi dalla madre al feto e durante l'allattamento successivamente anche del latte materno si trasmettono anticorpi protettivi nei confronti del bambino. Senta però una buona notizia, diamola perché altrimenti... Cioè è che l'Italia è tra i paesi con il più basso tasso di mortalità al mondo di neonati anche molto prematuri, cioè di peso inferiore ai 1500 grammi, piccolissimi proprio. A che cosa dobbiamo questo primato? Potrei rispondere perché siamo bravi. In realtà effettivamente abbiamo fatto tanti passi in avanti ma tutto il comparto materno infantile perché è chiaro che questo è dovuto anche al fatto che gli ostetrici, i ginecologi ci consegnano dei bambini maggiormente in salute anche se nascono prematuri ma sono bambini più controllati, sono gravidanze più seguite quindi anche per noi diventa più semplice curarli. Allora vediamo invece la parte appunto negativa, quali sono le cause della mortalità di questi bambini. Allora lei ha parlato di mamme più seguite, no? Allora il problema dei bambini prematuri che non ce la fanno è dovuto a una minore qualità dei punti nascita oppure il fatto che le mamme non sono state seguite adeguatamente durante la gravidanza? Beh naturalmente la mortalità è legata alla patologia in sé, la prematurità è una malattia grave, più grave la prematurità più presto il bambino nasce più ha difficoltà naturalmente a sopravvivere. Le differenze che ci sono fra aree territoriali probabilmente vanno spiegate su quello di cui accennava prima, cioè ci si possono essere delle differenze proprio di tipo socio-economico, delle sacche di povertà particolari in cui le gravidanze non sono seguite nella maniera giusta e quindi questo può condurre a dei parti prematuri più complicati. Ma quindi è importante partorire di più in centri più grandi che hanno dei numeri più alti, un volume maggiore? Sicuramente c'è maggiore competenza, d'altronde questo è in parte quello che ha migliorato la sopravvivenza in Italia, un sistema abespok per cui si porta nel centro di terzo livello, nel centro molto più attrezzato, direttamente la mamma con rischio di parto prematuro. Il trasporto di un bambino da un centro periferico a un centro invece più centrale, più attrezzato è un fattore di rischio per la sopravvivenza. Certo. Senta, uno dei problemi che si sono registrati durante questo periodo di pandemia è la difficoltà dei genitori di un bambino nato prematuro di stargli vicino perché era più difficile l'accesso proprio ai reparti. È giusto? Purtroppo sì, in realtà in molti casi i genitori sono stati visti come dei visitatori, in realtà non sono dei visitatori ma sono parte integrante del processo terapeutico del bambino. Noi prendiamo in carico a 360 gradi tutta la famiglia, non solo il neonato. Quindi i genitori hanno bisogno di entrare in terapia intensiva senza limitazione di orario e i neonati hanno bisogno della presenza dei propri genitori che oltre a essere presenti devono essere coinvolti nell'assistenza al loro bambino. Ecco, quindi il bambino, no, vorrei sottolineare questo punto perché è una cosa peraltro di grande tenerezza, insomma. Cioè questi bambini sentono ovviamente la vicinanza dei genitori. Sicuramente sentono la vicinanza ma noi invoiamo i genitori a toccare, a carezzare i bambini, ad assisterli. Ci sono alcune cose che i genitori possono fare, altre naturalmente le fa il personale di assistenza ma devono essere coinvolti nel percorso assistenziale del loro bambino. Anche semplicemente parlando, anche semplicemente toccandoli, sì. Senta, e però allora il problema della sicurezza con il Covid come si risolve in questo caso? Beh, si risolve naturalmente con le precauzioni che siamo abituati a utilizzare. Quindi sempre la mascherina, sempre il lavaggio frequente, disinfezione delle mani, vaccinazione, green pass, eventualmente i tamponi antigenici o molecolari. Senta, un altro grande problema che si è posto in questo tempo di Covid sono state le banche del latte donato perché questi bambini hanno bisogno ovviamente di latte donato. Eppure abbiamo ben 40 banche del latte, peraltro distribuite in tutta Italia. Sì, siamo probabilmente il paese europeo che ha più banche del latte in assoluto. Ma per generosità, mi scusi, per generosità delle mamme che donano il latte? Perché c'è una cultura della donazione, sì, c'è un'organizzazione importante ma anche una cultura della donazione. È evidente che durante il periodo della pandemia un po' di timore c'è stato nel recarsi in ospedale a donare il latte, quindi si è ridotta un po' la quantità di latte a disposizione. Quindi io come Presidente della Società di Neonatologia dovrei fare un appello a tutte le mamme, andate a donare, donare sicuro ed è importantissimo per la salute dei nostri piccoli bambini prematuri. Ecco, chiariamo una cosa perché magari chi non ha avuto figli può non saperlo. Perché le mamme, non possono donare le mamme dei bambini prematuri il latte ai loro figli? No, le mamme e i bambini prematuri lo fanno, però spesso non è sufficiente, spesso nel periodo che intercorre fra la nascita e il bambino, il momento in cui la mamma è in grado di dare il proprio latte, diciamo che è fondamentale, veramente uno dei farmaci più potenti, noi abbiamo bisogno di dare al bambino il latte umano donato. Il latte umano donato. E non ci sono pericoli di passare l'infezione da Covid ai bambini anche con il latte donato, giusto? Non è mai stato dimostrato un passaggio di infezioni attraverso il latte, anzi, latte protettivo nei confronti del Covid. Ecco, perfetto, quindi allora doniamo, non c'è nessun pericolo, quindi il latte può essere donato con grande sicurezza, senza paura di prendere il Covid, giusto? Assoluta tranquillità. Grazie dottore. Grazie a lei.